Possono ripartire dopo il recupero del pallone Dido Occhio al top, gran tiro E il pallone entra, ed è gol Stanno dilagando, si vede che il titolo è davvero a portata di mano Grande autostima, grande sicurezza per questa squadra Hanno a disposizione più match point per laurearsi campioni Difficile che possano spercarli tutti Hanno raddoppiato, adesso sono avanti 2-0 Sbaglia la misura del passaggio Intercettano bene il pallone e provano a ripartire Ecco il tiro, attenzione, ecco il gol Rivediamo il gol che aumenta ulteriormente il margine di sicurezza Beh, li stanno umiliando Pierluigi Grazie 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 Grazie